Ben trovati. Sta avvenendo lontano da noi ma è una vicenda che ci tocca da vicino soprattutto in quanto donne. Hanno l'età delle nostre figlie, le oltre 200 studentesse nigeriane rapite ultimamente dagli estremisti di Boko Haram. Ecco, cosa vuol dire Boko Haram? Significa l'educazione occidentale è vietata. Infatti queste bambine, queste ragazzine sono state sequestrate proprio perché hanno la colpa, per così dire, di studiare, cioè quindi di formarsi per poi un giorno lavorare. E invece no, non possono farlo. I terroristi le hanno prese perché, dicono loro, una donna deve solo diventare moglie e per questo, aggiunge il loro leader, le venderemo al mercato. Allora, questa è una storia veramente scandalosa. È arrivata all'attenzione del mondo grazie alla rete. Sta girando da giorni, forse l'avete già visto, un hashtag che dice riportiamo a casa le nostre ragazze. Allora, assieme all'azione dei governi dei vari paesi che si stanno certamente muovendo, compreso il nostro paese, ritengo importante che ci sia anche la più ampia condivisione e mobilitazione ad ogni livello. Non si può accettare che diritti fondamentali e il diritto fondamentale delle ragazze allo studio, a uno di questi, vengano calpestati. E allora non lasciamo sole queste ragazze. Nell'Aula della Camera questa settimana si è celebrato, alla presenza del Presidente Napolitano, il giorno della memoria per le vittime del terroresmo. È importante che siano i familiari delle vittime a parlare, perché spesso in passato è accaduto che i riflettori si accendessero piuttosto sugli autori dei delitti. La giornata scelta per la commemorazione, come sapete, è quella in cui venne assassinato Aldo Moro, cioè il 9 maggio. Una data che coincide con un'altra ricorrenza, quella in cui si diede vita nel 1950 al primo nucleo dell'Europa Unita. Il sogno dei padri fondatori lo vediamo oggi in maniera, come dire, più controversa. Ma l'Europa è, ancora più di ieri, è il nostro orizzonte. E spero che tutti e tutte facciamo valere con il voto alle elezioni il diritto di contribuire alla costruzione dell'Unione. Quindi di partecipare, di far sentire quale Europa vogliamo. Chiudo questo breve messaggio con un invito. L'invito a venire alla Camera per chi domani sarà a Roma. Montecitorio aprirà le porte ai cittadini, come fa una domenica al mese, ma stavolta però, con l'apertura domenicale, inauguriamo una serie di eventi. Una serie di eventi che di volta in volta accompagneranno la manifestazione. Quello di domani sarà dedicato alle vittime della mafia e ospiterà una mostra fotografica su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma prima ci sarà un momento di riflessione al quale parteciperanno il Presidente del Senato, Grasso, la Presidente della Commissione Antimafia, Bindi, Don Luigi Ciotti e il Direttore dell'Agenzia Stampa, Anza, Contu. Bene, io vi ringrazio dell'attenzione e ci rivediamo fra una settimana.